Sì, io sono profondamente convinto che di fronte a questo enorme fenomeno di urbanizzazione che riguarda tutto il mondo, che la Cina sta vivendo in modo tumultuoso, le nuove tecnologie possono migliorare la vita delle persone, migliorare la qualità dei servizi, ridurre l'impatto ambientale dell'urbanizzazione, razionalizzare le città e quindi sono veramente la chiave per una vita migliore. Penso che l'Italia è una grande tradizione nel campo delle città, è un paese che forse più di altri ha sviluppato una cultura urbana che viene da lontano, da secoli, secoli scorsi. E la Cina, che alle prese con questo grande problema, possono lavorare insieme, è un'opportunità per fare delle cose insieme, non soltanto per fare affari, ma anche per sviluppare una relazione di carattere culturale, intrecciare rapporti umani e quindi rendere più solido questo rapporto. Tutto questo è contenuto anche nel memorandum firmato tra l'Italia e la Cina. Qual è il suo giudizio? Guardi, io penso questo, ma proprio anche delle polemiche un po' insensate. Diversi paesi europei hanno con la Cina rapporti economici molto più impegnativi di quelli dell'Italia. quindi noi non siamo il cavallo di Troia della penetrazione cinese. Solo la Germania c'è rapporti economici che valgono otto volte, quelli dell'Italia, non scherziamo. Noi stiamo cercando di recuperare terreno e di costruire un rapporto economico che possa essere reciprocamente vantaggioso. È evidente che nel rapporto con una grande potenza come la Cina bisogna sapere, l'Europa dovrebbe difendere i suoi interessi, dovrebbe negoziare con i cinesi. I cinesi sono degli straordinari negoziatori. Quindi significa accettare il loro punto di vista su tutto. Le faccio un esempio concreto, anche perché per agganciare questa discussione a qualcosa di concreto, se no diventa una discussione ideologica, fasulla e spesso basata sulla totale ignoranza dei fatti. Ora, l'intercambio tra Europa e Cina è fortemente squilibrato a favore dei cinesi, soprattutto nel campo del commercio di beni. Però nel campo dei servizi l'Europa è più competitiva e ha un piccolo vantaggio, solo che il settore dei servizi è molto piccolo. Allora, un tema concreto da discutere anche oggi con i cinesi è che se i cinesi aprono di più il mercato dei servizi in Cina, questo può aiutare a riequilibrare il rapporto economico con l'Europa. Ne faccio un altro esempio concreto. I cinesi stanno discutendo, proprio in questi giorni, ma non appare sui nostri giornali, una nuova legge per la protezione degli investimenti stranieri in Cina. È una legge interessante perché affronta positivamente alcuni problemi per creare condizioni per le nostre imprese che vanno in Cina che siano uguali a quelle che le imprese cinesi incontrano qui. Allora, i temi concreti sono questi. Reciprocità, apertura dei mercati. Su questo bisogna negoziare anche duramente con i cinesi, non sulle prejudiciali ideologiche. Ecco, questo è il tema. Vorrei che il dibattito fosse meno provinciale. Abbiamo finito per presentarci come i partner della Cina in Europa quando non è così. Io giro la Cina da tanti anni e lo sforzo mio è di spiegare ai cinesi che la tecnologia non è solo tedesca. Per loro pensano che ci sia solo la Germania o che il vino non è solo francese. Ma non scherziamo, ci vengono a fare la morale. Magari questi paesi hanno l'astuzia di firmare meno memorandum e più contratti. E vorrei che anche l'Italia facesse così.